Decidete per il coniugio? Simone vuole sposarla? Ma io assolutamente sì Ovviamente non adesso Perché insomma Glielo vuole chiedere adesso? Adesso è un po' più Sei giovane Scusi, signor Simone Glielo vuole chiedere adesso in onda? Ma benissimo Glielo chieda Stefania, vuoi prendere Simone come legittimo sposo? Accetti il coniugio? Io ci devo pensare bene Ma come pensare? Abbiamo ancora 15 secondi Vabbè ma Simone lo sa Che queste cose mica si dicono alla radio Lui ha fatto bene a farmi la domanda Ma io la risposta la darò nel momento giusto Al posto giusto Quando è il momento giusto per il coniugio? A voi ve lo faccio sapere In anteprima O meno con la marcia nuziale Sarete i nostri Damigelle Signor Simone arrivederci Grazie, buona giornata